Benvenuti a un nuovo episodio di InRisposta Combo e come ogni inizio set, è appena uscito V-Rex All Will Be One Ed eccoci pronti con la nuova classifica delle migliori No, attenzione, format nuovo Simo E che set di? Ma che mi fai fare tu? I nostri fan, cioè, sicuro che... Beh, ma di top ne abbiamo portate negli ultimi mesi Quindi oggi proviamo una puntata diversa dal solito Ed è una puntata dove facciamo un highlight su una singola carta E signori, che carta! Attraxona Già, 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 sembra proprio che Magic sia destinato a cambiare per sempre Da sempre, in sempre e... boh, di un'altra cosa che fa così tanto spettacolo Questo perché Wizard of the Coast ha stampato una carta a Traxa Che, beh, ragazzi, cambierà, ha già cambiato Probabilmente continuerà a farlo sempre di più Il mondo di Magic the Gathering Perché sembra che sia, come da titolo clickbait Che buon Fabrizio spero abbia messo La creatura più forte mai stampata in Magic Con tutti, chiaramente, i crismi del caso Adesso vi andremo a far capire Creatura forte, come al solito Quando una creatura costa sette mana Uno dice, vabbè, sì, che vuol dire creatura forte? Cioè, c'è roba... Snapcaster costa due Non me lo puoi mettere in paragone Infatti è difficile, no? È difficile Sicuramente l'Enter the Battlefield di Atraxa è molto potente E ne parleremo nel dettaglio oggi Ma prima, Simo, facciamo questo switch E ringraziamo tutti quelli che ci seguono In particolare i Patreon Ma anche, signori, vi chiediamo di lasciare una bella recensioncina Su Spotify 5 Stelle Mi raccomando, dobbiamo scalare questa vetta dei podcast gaming Ragazzi, noi siamo qui per conquistare il mondo Il podcast o il mondo Questo non possiamo dirvelo Questo dipende da voi Dipende da voi Da quanto effettivamente voi ci fate scalare questa classifica Quindi vogliamo assolutamente, insomma, il vostro supporto E potete supportarci anche e soprattutto iscrivendovi al nostro Patreon Che si è, insomma, assolutamente per colpa nostra Diciamoci la verità, Fabrizio Che non abbiamo poi interagito A mettere in piedi le tante cose che volevamo fare con questo progetto Patreon Però, dicevo, comunque, insomma, si è un po' svuotato Ci sono pochissimi supporter del Patreon Che tengono in vita il risposto scombo Vi ringraziamo tutti tantissimo Con un bacio in bocca Ma, anzi, io ho pure una carta firmata Troppo fluido Troppo ruido Troppo rosa chemical Troppo rosa chemical, è vero Noi siamo, sì, un po' il Sanremo della scena italiana No, però questo... Tu ti senti un po' Amadeus No, questo mi sento un po' offeso Nel suo punto c'è proprio posto per Sanremo, no? Amadeus, che ti devo dire? Vabbè È un professionista È un grande professionista Comunque, Sanremo scala le classifiche dello share Come scala la... come dire Il trend... i trend di MKM, questa Traxa Tutti parlano di questa carta E ovviamente questo si riflette anche sul prezzo Perché so di persone che l'hanno presa davvero pochissimi soldi Adesso inizia a costicchiare sempre di più E soprattutto le copie partono Perché la gente, non tanto nella spoiler season Quanto ora che i pro hanno iniziato a testarla La gente si è resa conto di quanto è forte questo angelo pirexiano Direi che posso leggerla No, ti racconto prima la mia storia su questa cosa qua Io ho fatto il pre-release Come tutti, insomma, spero che l'abbiate fatta anche voi Perché è stato veramente molto divertente Questa espansione mi piace moltissimo Per quanto riguarda il... Insomma, il limited L'ambiente limited E mio figlio l'ha sbustata L'ha sbustata tra l'altro in modalità... Cioè, show case Full art Esatto Full art, cioè che ora non mi ricordo E la voleva vendere Perché il bambino piccolo subito era andato a vendere una cosa Perché aveva capito che adesso queste carte le posso vendere Ah, che figo di qua e di là Quindi voleva venderla al miglior offerente Tra virgolette E la voleva quindi vendere al negozio E gli davano per quanto riguarda A Traxa Quindi a mio figlio picco A mio figlio grande 6 euro 6 euro e mezzo 6 euro e mezzo E adesso sta a 25 Eh no, quella full art alternative Parliamo di 40 e... Non credo che sia quella show case Non è proprio full art Cioè, c'ha il testo Quindi... Sì, cioè quella art tamarra Comunque sì, c'ha l'art tamarra E ti ripeto 25 a costa di salire Cioè, adesso non ne trovi una a meno di 25 No, 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 stai esprudendo Qua è uno di quei casi in cui effettivamente va detto Che il prezzo è stato Insomma, sbagliato Da parte dei venditori Gli speculatori Di chi appunto Ha letto la carta Ha detto Vabbè sì, sta carta figa Ma... Finale 5 euro 6 euro Per una mitica tra l'altro Effettivamente super svalutata Comunque leggo l'effetto della carta Così capiamo di che cosa si tratta Costa agili 7 mana Di cui uno verde, uno bianco, uno blu e uno nero Angelo, pirexiano, leggendario, 7-7 Con volare, vigilance, death touch e lifelink Quindi già un po' di keywords ci sono Poi parte il me... Giusto un paio, sì Cacchio, ma non è una trample Cazzo, questa è una mancanza Comunque... Allora... Ne faremo a meno Quando entra nel campo di battaglia Rivela le prime dieci carte del tuo mazzo Per ogni tipo di carta Puoi mettere una carta di quel tipo Di quel tipo fra le carte rivelate nella tua mano E le altre invece le metti in fondo al mazzo In ordine randomico Tra l'altro Così ve lo raccontiamo for fun Perché Atraxa segue un po' la scia Del buon amico Tarmogoyf E annuncia nel suo testo Una nuova tipologia di carta Ovvero Battle Che non sappiamo ancora nulla Ce l'ha spoilerata così Out of nowhere La buona Atraxa E infatti questo tra l'altro Devo essere sincero Io non l'avevo notato Nel periodo molto di fretta Sarà nei video Non leggo le carte Gioco con le carte Sbagliando gli effetti Eh E questa cosa qui non l'avevo notata E credo che sia la cosa forse più interessante Alla puntata ragazzi Cioè questa carta Annuncia al mondo Che ci sarà un nuovo tipo di carta a breve Che tra l'altro è una cosa che io pensavo Che sarebbe successa dire Presto E effettivamente questo presto Si sta trasformando in Eccoci siamo pronti Chissà cosa saranno queste battaglie Chissà cosa saranno queste battle infatti Però Atraxa quindi Carta zarrissima Potentissima Che ha stupito tutti E in più Entra nella storia Perché ci annuncia Una nuova tipologia di carte Quindi Capite che Questo episodio di In risposta scombo Ha una solida base Di contenuto Mettiamola così Altra premessa Atraxa In realtà noi l'avamo già vista Nel magico mondo di Magic Sotto forma Di uno dei commander Più popolari Più famosi E Magari anche più potenti Del Che era uscito Con i commander del 2016 Atraxa Creators Voice Anche lei costava Era nei colori Bianco Verde Nero E blu Però questa volta Aveva tutta una meccanica Sul proliferate Commander Zarrissimo Super Friends Ma torniamo a noi Alla grande Unificatrice Questo angelo Cattivissimo Quindi Tra l'altro Era un angelo Horror Prima Atraxa Adesso è Pyrexian Adesso c'è un angelo Pyrexiano Interessante Questo cambiamento Chiaramente Come cambia il mondo Velocemente Come cambia il mondo Comunque Le persone Vedendolo Hanno pensato Boh Questo è uno zarrissimo Commander La verità è che Sì In commander È figo Perché la puoi Blincare Essendo un Enter the battlefield Puoi fare Cose zozzissime Ma Il punto è che Si sta rivelando Devastante In formati come Legacy E Vintage Formati Dove Solitamente Eravamo abituati A Revival Target Come Grizzle Brand E invece Grizzle Brand Viene sostituito Da questa Atraxona Sì Diciamo che Nella nostro Clickbait Hanno stampato La creatura Più forte Di Magic Chiaramente Cioè Uno Pensa alle creature Che sono state Cioè Uno Chiaramente Il target Secondo me Di Rianimere O di Show and Tell Più Grosso che c'è mai stato Si chiama Embracool Solitamente No Embracool Effettivamente È la creatura Che se tu Uno dice Vabbè Questa quando entra Hai vinto Cioè Nel senso Che puoi fare Contro Embracool Nulla Peccato che poi Un giorno Wizard of the Coast Decide di stampare Una signora Che si chiama Solitudine Embracool Fondamentalmente Non è più una carta Perché il suo Enter the Battle Fertiche Non esiste Cioè L'unica cosa Che fa Oddio no Prende un turno Adesso mi ricordo C'è quella Prende un turno Prende un turno Praticamente a 15 Mana Prende un turno Perché se io Solitude Embracool Niente Non farà Quell'attacco Che poi ti Uccide Perché questo Fa Embracool Alla gente E alle partite Chiaramente Detto questo Però Insomma Mano a mano Magic si va avanti Poi esce Griselbrand Griselbrand È una roba Pazzesca Tutti vanno dietro Griselbrand Insomma Fa proprio Come si dice Terra bruciata Di eroese Blablabla E adesso È il momento Invece di Una creatura Che comunque Un Enter the Battlefield Trigger Ce l'ha Ed è un Enter the Battlefield Trigger Comunque Davvero Davvero Interessante No Queste creature Che avevamo detto Non ce l'avevano Ormai Wizard ha capito Signori Non c'è niente da fare Bisogna Che le carte Quando entrino Spacchino il tavolo E questa Lo spacca Questa Lo spacca Ovviamente È uno dei migliori Target Da cittare In gioco Cioè Difficilmente Uno lo va a giocare Effettivamente A sette Prova In qualche modo A evocarla Prima Di arrivare A così tanto mana Disponibile Quindi parliamo Di reanimation Target Oppure Di cheat Come può essere Creativity Infatti Mi avevi detto Che in Pioneer Stanno iniziando A testarla E poi c'è anche Tra l'altro Il fatto che La gente dice Ok È bilanciata Dal fatto che Richiede Quattro mana Colorati Non è vero Paradossalmente In Legacy E vintage Leggevo È molto più facile Fare quattro mana Di colori separati Rispetto ad avere Quattro mana neri Grazie alle dual Quindi Paradossalmente È più facile Da lanciare Oltre all'enter the battlefield Che leggevo In media Arriva circa A farti pescare Quattro Sei carte In base a come Buildi Il deck Quindi Sono un botto Di carte E tra l'altro Sinergica Fra di loro Cioè ci sono Un sacco Di interazioni Se vi cercate Online Qualche lista Sono super Interessanti Quindi lei Entra in gioco Ti fa pescare Perché magari Tu hai speso Risorse Giocato un sacco Di carte Per rianimarla E lei ti Rifilla la mano Cioè ti riempie Di nuovo di carte A comunque Volare Travolgere No Non è vero Travolgere No Vigilance Death Touch E lifelink Quindi tu hai Un 7-7 Cittato in gioco Che ti fa Value Perché Ti fa riprendere Carte in mano E in più È un 7-7 Volante Vigilance Death Touch Lifelink Sì Perché Poi La fine Diciamoci la verità Probabilmente Io Credo Non so se la pensi Anche tu così C'è quel Lifelink Che È tutto È proprio È il senso Di Magic the Gathering Quasi Perché tu Magari stai perdendo Per aver fatto Tutti i tuoi casini Per rianimare Sto cazzo E la traxa E poi alla fine Lo rianimi E se non c'è Risposta all'altra parte È lo swing È troppo potente Troppo 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 Potente Cioè Ti faccio Sette vite Prendo sette vite Dai Cioè Come Da lì in poi Che succede In più In più Tra l'altro Attaccami Attaccami Che c'è Traxa No È Veramente Una carta Bellissima Io Quando l'ho Ho fatto la review Tra l'altro Ho pensato Vabbè ma questa costa Un po' troppo Mana Caspita I target Per rianimator Sì ci sono Per carità Sembra figo Però Sai Pensavo Alla fine Va solo Vantaggio carte Il punto È che infatti In modern Il formato Secondo me Del vantaggio carte Si sta vedendo Un po' Meno Di Un'altra carta Che tra poco Vi presentiamo Con cui dovevamo fare Il paragone Che è Archon of Cruelty Però Nei match up Scusate Nei formati In cui Se alla fine Io prendo Una force of will Con quelle carte Posso difendere Attraxa Che è un bestione Si sta giocando Tantissimo Si sta giocando Tantissimo Vedi un sacco Di carte Molto potenti Ovviamente Il confronto Con Nivmizet Quello 5 colori Ti fa capire Che in formati Come legacy Le carte multicolorate Non sono force of will E il motivo Per cui Viene stragiocata È appunto Force of will L'enorme vantaggio Rispetto a Grizelbrand O all'Arcon Che sono degli ottimi Target Carte fortissime E che tu puoi Esiliare La Traxa In mano Per giocare Force of will Perché è di colore blu E puoi farlo Anche per Solitude Che abbiamo citato Parecchie volte Tra l'altro Un'altra curiosità È che Insomma Noi volevamo presentare Un po' di carte Che hanno rotto i formati Tanto ormai Ne abbiamo già parlato Quindi abbiamo parlato Di Griselbrand Un'altra carta Che ha rotto i formati È Omnath E una curiosità È che Sempre quattro colori Ma qui Niente rosso Arriva il nero No? Quindi Il trittico bant È sempre presente In queste carte Spacca formato Poi però Qualcuno Lo voleva chiedere Ma dove andiamo Perché non andiamo Verso il nero Ci siamo andati Eccolo qua Trax è pronta per voi Per andare verso il nero Appunto E Ribaltare tavoli Su tavoli Su tavoli Perché Comunque questo discorso Di guardare dieci carte Hai citato Nivmizet È fatto benissimo Perché è la carta Che chiaramente Viene subito in mente A tutti Perché è Più o meno la stessa cosa Guardare dieci carte Però Nivmizet Ha questa Restrizione Che è molto diversa Da quella di Atraxa Perché dice Prende una carta Per ogni color pair Quindi tu devi fare Il mazzo Con tanti color pair E in più Devi avere la fortuna In quelle dieci carte Vedi i color pair E non è che Sono tutte carte Buone No? Atraxa Invece Ti dice Prendi una terra Un'arte fatta Un'incantesimo Un'incantesimo Tantissimo In dieci carte In un mazzo Costruito Diciamo Intorno alla Atraxa Per non vedere Delle carte Dieci carte Sono tante Dieci carte Sono tantissime Ce ne vedi davvero tante Quindi Il deck building Non è neanche così Tanto No Legato all'enter The battle field Assolutamente Assolutamente Cioè è fortissima La carta è fortissima Veramente Probabilmente È una delle creature La creatura più forte Ma è stata Allora Facciamo così La creatura più forte Non vogliamo fare classifica Questa è una classifica Questa carta Cambierà magic Per sempre Rivoluzionale Perché non c'erà uno forte Vero Il confronto Che hai fatto tu prima Hai citato Omnat Altra creatura Che va Spaccato tutto Devastato Tutto Diciamo che Come dire A partire da A livello di creature Parlo A partire da Uro Sono iniziate A uscire un po' di carte Creatura Molto 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 Forti Cioè se pensi che Fino a poco tempo fa Il Tarmogoyf Era considerato Una delle creature Più forti in assoluto Adesso il Tarmogoyf Non solo è Proprio deceduto A livello di prezzo Ma anche a livello Di giocabilità Stanno uscendo Stanno uscendo creature Sempre più forti Uro è stato bannato Da un botto di formati Omnat Pure E adesso Atraxa È un pochino più Legata A una certa tipologia Di archetipo A cheat Di mana Quindi magari Non avrà Questo destino Però sicuramente È una carta Davvero forte E segue un po' La scia Di queste due bestioni Che abbiamo citato Sì Uro È una carta Diversa Uro è una carta Che comunque Ha rotto il gioco Perché è bannato ovunque Praticamente Tranne che in Legacy Però la considero Appunto una carta Sicuramente diversa Da Atraxa È una carta che Però Ha una cosa simile Che quando uscì Anche quella Fu prezzata bassa Rispetto a quanto Era forte Perché appunto Condivide con Atraxa Il fatto che Quando la leggi Magari Non capisci bene Quanto Possa impattare Sul gioco In verità Atraxa Probabilmente È stata rotata così Per il suo Costo di mana Su Uro Non so quali fossero I dubbi Però Effettivamente Ecco Uro È una Una carta Che dico Cioè vabbè Uro è Però ha una funzione Differente Come hai detto Atraxa Mi ha fregato A me Capito Atraxa Era una roba Cioè nel senso Io dico Ok lo devo Rianimare Sto coso Però io continuo A dire Lo rianimi Ma non c'ha Exproof Ok Quindi comunque muore Ti sei però Rifatto la mano E nei formati Ripeto dove puoi Difenderla Con l'espella Zero Questa crocco È ingestibile Ok Perché magari Perché magari Negli altri formati Se io ti sto Aggredendo Tu Fai una Traxa Ti rifai la mano Non è come L'arconte agro del tac Che tiri da vite Ti spacca le creature I place walker altrui Cioè se io ho board Quest'affare qui In fondo non fa niente Ti ha solo Rifatto la mano Ok Immaginatele Che io ho un teferino No a terra Tu fai questa Io te la rimbalzo Pure che Cioè Sono contento Che te la rifai Ancora la mano E poi continuo A giocare la mia partita E tu Non hai cambiato Io quindi sono stato Fregato da questo Rimane però Una carta Che chiaramente Insomma È molto Molto forte Nell'ambiente giusto E adesso Sembra proprio Che sia arrivato Il suo momento È arrivato il suo momento Di questo Sta unificando Tutti i giocatori E li sta convincendo Che è una carta Di magic Molto forte Creatura più forte Di tutte Ci asteniamo Io mi astengo Sì Io mi astengo Sicuramente Se guardo le liste Di legacy Reanimator Che la giocano In fondo giocano Una tra Xa E poi 4 crisi Il brand Quindi Eh ma guarda Che sta cambiando Adesso da qua Quando uscirà L'episodio Magari cambia Perché C'è molto Dibattito Se entrate Su internet Tutti Su twitter Anzi Tutti Parlano Di atrax Ragazzi No no Questo è vero Cioè Allora Il punto vero E quello che ha stupito Il mondo E che secondo me E poi la cosa Su cui L'abbiamo già sottolineata Ma la ridiciamo È il costo Cioè Signori Questa è una carta È partita a 5 euro Mostra a 30 40 Si parla di 50 Se ti dico Cioè Su Magic Online Potevamo diventare ricchi Perché non mi hai fatto diventare ricco Tu Fabrizio Che hai tutto Perché non avevo colto Non avevo colto La potenza di questa carta È stata apprezzata Dai botte Inizialmente A due Fottuti Tics Pensa te Due Oggi Come oggi Mentre registriamo la puntata È a 81 Capito Tu ti rendi conto Che se investivamo insieme Non lo so 2000 euro No Non ci voglio pensare Perché era per 80 Vai avanti con la puntata E andiamo avanti Con la risposta Questo Questo è il bello di me Questo è Sì Anche insomma Quell'aspetto di Magic Che uno insomma Tende a considerare poco Se si interessa solo il gioco Che però Caspita Fa proprio Ti fa volare Perché ti fa volare Perché pensi Vabbè Ma la prossima volta ci provo Cazzo Compro Delle mitiche Che escono La prossima espansione Le compro tutte Quelle che stanno a poco E vediamo che succede Ma Qual è stato L'ultimo tuo investimento Di successo L'ultimo investimento Di successo 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 Ma di quelli che Di quelli che compri Dicendo Secondo me Questa carta Ho visto arrivare Recentemente Proprio Avevo visto Che secondo me Il finale Of devastation Stava a pochissimo Su MTGO Troppo poco Per essere vero Ne ho comprati un po' E poi effettivamente È salito Se non sbaglio È salito Con l'uscita Di The Brothers World C'era qualcuno Che stava provando A risparlo Tra l'altro Adesso è risceso Quindi se pensi Non è Un investimento Poi così Cioè Boh Troppo E L'altro È Resplendent Angel Resplendent Angel Effettivamente Mi ha fatto guadagnare Un sacco di soldi Perché L'ho comprato A centesimi Ma proprio a centesimi Ne ho comprati Una decina E l'ho rivenduti A 6 ticks Quindi Da centesimi A 6 ticks Resplendent Angel È quella mitica Che Vabbè È solo Descurrente Perché è uscito Il mazzo angeli Che è già morto Sono tutte carte Diciamo che Su Magic Online Queste cose Si possono fare Perché ci sono tante carte Che non valgono proprio Niente Niente E che ogni tanto Spagano Sì Chiaro E invece Il mio ultimo Cioè Io sto parlando solo Di MTGO No io cartaceo Perché come stai Cartaceo io non faccio Investimenti Io l'unico Io l'unico Che ho fatto Di recente Me ne ho fatti alcuni In generale È una cosa Che a me diverte fare Però quello Di più successo Che ho fatto Di recente In realtà È passato un anno Ho comprato 4 Fable A 2 euro Adesso le ho rivendute Oggi Tipo a 27 Perché erano pure Alternative Molto Molto bene Una l'ho tenuta Per Commander Ovviamente Perché la gioco Si fa così Vedi a giocare Commander Vedi è come giocare Commander Vedi Le 1 e non 4 Esatto Va bene Allora Fateci sapere Nei commenti Se chiaramente Anche per voi Adraxa È la creatura Più forte Mai stampata In magic A proposito I commenti Ne andiamo a leggere Qualcuno su youtube Vi ricordo assolutamente Di mettere recensioni Su spotify Anzi Tu controlla Se su spotify Abbiamo recensioni Perché chiaramente Se ne dovessi avere Noi la dobbiamo assolutamente Leggere Cioè noi lo diciamo In tutte le puntate Ma voi non fate mai Una recensione Siete un po' Cattivelli Anche perché Costa niente Maledizione No Dov'è che vedo Le recensioni Da spotify Qua c'è un attacco Di boomerismo Signori Boh Non lo so Comunque dai Leggo Una Un commento Alla puntata Che è stato fatto Ovviamente sul canale Di Fabrizio Dove esce In risposta a scombo Leggo il commento Di Mirko Cipriani Stupendo episodio Come tutti quelli Con la PMR Volevo portare Attenzione Su un paragono Che non ho sentito Da nessuna parte Ma che mi è venuto in mente A lungo tempo I pirexiani Per me sono i Borg Star Trek lore Del Magic Universe Sei d'accordo? A qualcuno Che ha venuto in mente Questa analogia Solo a me Carina questa Perché effettivamente Tu poi c'ha ragione Sì c'ha ragione E io invece ne trovo Un altro Che mi aveva fatto Molto ridere Perché racconta Un po' La grande verità Di questi episodi Lore Con i PMR Di Giorgio Dalmasso Che dice PMR Molto 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 meglio Di Brad Pitt Vero Vero È il Brad Pitt Che ci meritiamo Diviso due Non so dove si trovano Le recensioni Le recensioni Non le trovate Ma magari Per lo prossimo episodio Cerchiamo 138esimo episodio Agli archivi Grazie per aver ascoltato Come sempre Risposta Scombo Vuole tenervi compagnia Con un podcast Legato a Magic Che si può Vedere Ascoltare Farvi quello che vi pare Insomma Come sempre Se avete Qualunque feedback Noi siamo A disposizione Assolutamente sì E ci sentiamo Domenica prossima Domenica prossima